Nella giornata di ieri sono stati riscontrati sei casi di positività al Covid-19. Tra questi vi è anche una luna frequentante alla scuola primaria Landolfi di Piazza della Repubblica, ragion per cui ho disposto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di oggi 27 aprile per svolgere le operazioni di sanificazione. Sono le parole del sindaco Adamo Coppola attraverso un comunicato stampa. L'ASL è al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti, fa sapere il sindaco, c'è anche una buona notizia, si sono verificate infatti anche 16 guarigioni dal virus. Il dato dei positivi attuali scende dunque a 53, mentre quello dei guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sale a 323. Il numero di vaccini somministrati nella giornata di ieri presso il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli sono stati 175.